Da un progetto sinergico avanzato che caratterizza ProTech nasce LaserTech Advance. LaserTech Advance è una tecnologia caratterizzata da un laser defocalizzato per epilazione progressiva permanente. Per una facile gestione dei protocolli, il display soft touch 10 pollici permette di selezionare il programma indicato per il cliente. LaserTech Advance rappresenta un'evoluzione rispetto alla tradizionale tecnologia dell'epilazione progressiva permanente affidata alla tecnologia del laser. L'apparecchiatura, grazie alla sua doppia lunghezza d'onda di 808 nanometri e 1064 nanometri, rappresenta la nuova frontiera dell'epilazione progressiva permanente affidata alla tecnologia laser, in grado di attraversare la cute ed agire in maniera selettiva sul bulbo pilifero tramite il principio della fototermolisi selettiva. L'energia luminosa che viene emessa dallo strumento laser, catturata dalla melanina del pelo e trasformata in calore, è in grado di raggiungere anche i follicoli più profondi, con conseguente e progressiva permanente eliminazione del pelo. I suoi benefici? Favorisce una riduzione della quantità e del diametro dei peli, nonché una ricrescita lenta se non addirittura inesistente. Pratica indolore? Pelle rigenerata per effetto indiretto attraverso la biostimolazione generata dal calore, sviluppato dalla tecnologia, i fibroblasti saranno stimolati a produrre collagene, elastina, acido ialuronico. Previene la comparsa di follicoliti e peli incarniti.